Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeto Senne 275x130. Questi tappeti sono annodati nella città di San Andai, che si trova nella provincia di Kurdistan nella Persia occidentale. Il disegno presenta rombi, botte oerati dominati dai colori rosso e blu scuro. La lana è sempre di altissima qualità. Senne ha anche dato il nome al modo persiano. Lavorazione, Knotted Beyond. Spessore circa 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.